Stamattina è stata una mattinata già velocissima Una macchina in prova da Justin E quindi una sorpresina che voglio farvi Ieri sera stavo giocando con le luccette, le lucine Tutti i beep e mazzi, scusate E praticamente stamattina la batteria è scarica Quindi ho dovuto andare a comprare i cavi E adesso mi metto vicino con la macchina di ricordo E cercherò di farla partire Porca miseria Ho fatto una cazzata, si vede che ho lasciato la luce accesa da qualche parte E quindi è data un casino E ora andiamo Ciao ragazzi, questa è la macchina che sto cercando di comprare da Justin È una Mini Cooper Sport, modello, quello nuovo In quello più nuovo Carina, eh? A tutti gli optional Quindi vediamo se va in porto Questa è la car wash di Justin Justin, non è qui Justin, è in palestra Justin in palestra mi sembra una cosa un po' strana Però l'ho chiamato fa Sono in palestra, ti devo richiamare Ok, ciao Siamo qua su una barca di Devi Marvisi Mi muova, è uno zonico Bellissimo Matt ragazzi Mi sto provando a vedere come va E adesso andiamo fuori sul cielo Facciamo il giuretto 90 cavalli dietro qua Matt mi guarda e dice Che cacchio stai dicendo Andiamo a farci un giuretto E da un po' che non esco in barca Quindi sono super contento Abbiamo provato Troppo divertente Va a 32 nodi È una figata È troppo carina Guarda che bello Ah bello veramente Carino Questo è il nuovo giocattolo Questo è David Il proprietario è David È quello della barca verdina Quindi è il mio carissimo amico E questo è il nuovo giocattolo E ci diverteremo quest'estate È un Zodiac Bellissimo Bello Ha tre sedie qui dietro Carinissimo Uno, due, tre 90 cavalli Ed è molto molto carino Bello Mi piace il colore È molto aggressivo Eeeh Vai ragazzi Oggi è una bella giornata Marina del Rey Boom Ragazzi questo è Cristiano Il mio carissimo amico Lui ha visto in Italia Lui ha visto in Italia Tre anni Tre anni in Italia E ora è il mio style E lei è un bravissimo ragazzo Grandioso Grandioso Cristiano Poi dopo faremo un bel video su Cristiano Allora l'ho trovato qua Oh guardate che c'è qua Allora Italia Mua Come on I've got all the Italians here Bella Guardate 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 Come on Come on Viva Italia Viva Italia Sono appena arrivato a casa Oh no Un secco Nicole ride She's smiling Are you smiling? Ma se mi è appena arrivato a casa Show me the crack What's a crack? There's a crack in a wall Allora let's go Show me the crack I don't want to do that Mi ha appena cucinato Una bellissima Una buonissima Cucinata Yeah cookie Oh I've got cucinata in my name Cucinato Cucinato You cook Oh do you have cucinata No What do you mean? Non eat Oh really? I do have cucinata What do you want? Mi ha appena fatto un polletto Nicole è da quando arriviamo a casa Che praticamente Continua Ogni sera Mi fa una cenetta speciale Molto healthy Come si dice Quindi Molto Non fritta Cosa del genere Quindi un bel pollettino Insalata Quindi Stiamo cercando di fare una dieta Di mantenere una Una specie di alimentazione Comunque corretta Che comunque ci piace E quindi Nicole Mi ha fatto un pollettino buonissimo Poi sono andato a casa E quindi ho fatto la mia palestra Che qualcuno mi chiedeva Come mai sono Sono così Mantengo la mia linea Perché ogni sera Quando arrivo a casa Mi faccio 20 Come si dice Sollevamenti pesi Con l'Ele e l'Emilia L'Ele su un braccio E l'Emilia sull'altro E quindi faccio Una ventina di questi movimenti Come si chiamano E poi Su le gambe Quindi Loro sono la mia Loro sono la mia palestra La palestra Come si dice Umana La palestra La palestra Non La palestra La palestra La palestra Sì 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 Tänne Sì Luca Daddy, Daddy, happy face look like this. Emi, do you want to put that? Daddy, Daddy, happy face look like this. Watch me. You're right like this. That's Travis' face. Oh, sorry. Fat face! Happy face. Fat face look like this. Ciao! Happy face? Ciao. Oh, ciao! Happy face. Do you like this? That's right. Angry face. Happy face. Happy face. It look like this. No. Happy face. Surprise face. Happy face. Sad face. Surprise face. No, no, no. Happy face is too like this. Mad face. Mad face. Hey, 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 hey. Sad face is too like this. Oh, happy face. Surprise face. Scared face. Scared face. And silly face. What? Whatever they get in front. Um, happy face. Ow. Happy face. Happy face. Silly face. Silly face. Scared face. Scary face, let me. And surprise face. Silly face. no repeat 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 booboo booboo bababa booboo ciao meow bah bababa me 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 booboo la 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 daddy watch me watch me ow ah questi sono i momenti più importanti della gioia ow l'importante della vita veramente più importanti della vita ciao happy face ciao happy face happy face happy face happy face happy face surprise face scary face scary face scary face and Forest or è è è è Silly face! Surprise face! Silly face! Now repeat, repeat! Silly face! Questi sono i momenti più importanti della gioia! Importanti della vita! Veramente più importanti della vita! It's Lila! It's Lila! He didn't open them! What? He didn't open your prices! Yeah! Yeah! What are you doing up there? You know it's very dangerous! Stay by her step right there! I want some candy inside here! No, no candy right now! It's not candy! It's inside here! I don't care! No candy! Do not jump! All right, let's go! Come on! Questa è la seconda strada in Casa Golfieri! The Golfieri Family! Go! Go! Oh my god! All right! We have a human Muppet Per pulire la casa! Are you cleaning the house? Wee! 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 Are you okay? What's going on Amy? What's going on Amy? Hi mamma! Hi! Are you okay Amy? Yeah! Your stomach hurt? Yeah! Wee! Vecca! 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 E' un'altra serata di qual è? Da famiglia incredibili! Hehehehe! non lo guidi perchè comunque è pericoloso e quindi ho fatto quello che mi avete detto praticamente sono andato a prendere questa cosa online e praticamente sono contento adesso vediamo come va, aspettate, lo apriamo questo è un unboxing all'americana qui c'è la piazza, la piattaforma, qui c'è questo qua non lo so cos'è e questo qua neanche, questa è una scatola vuota, come si fa così fa? si fa così fa, questa è la scatola vuota, ciao questo è non lo so, questo qui è non lo so, questo è un braccio che, uh, porca miseria, se è duro così, questo è un altro braccio questo qui non so cos'è, questo qui, no, sono due misure diverse quindi penso che posso metterla anche l'iPad va di iPad qua, grandioso mettiamolo, non ce ne frega della plastichina e questo lo abbiamo anche lui, non ce ne frega della plastichina neanche questo è un cosino che serve per mettere giù lì a posto, venite quando serve wow, che speziale come si apre questo? ah, ho capito quindi qua ci posso mettere anche l'iPad, ragazzi che spettacolo ah, ho capito quindi si apre così si svita questo, si mette dentro il pezzino e poi si chiude e si avvita qua così capito? quindi così quindi questo qua va su lì sul vetro della macchina in questa maniera questo qui è l'appoggio che sarà per mantenere fisso bello, così posso fare le live posso fare le live senza toccare il telefono bello che c'è dentro anche il porta iPad vedi? bello boom, questo qua è new word Amazon è una cosa come 13 dollari ed è gradioso pezza party con i vicini di casa ed è bellissimo, divertente, bello oggi è stata una giornata molto bella purtroppo non ho dovuto fare troppi video perché comunque e quindi è stata una giornata super impegnativa il lavoro ho avuto un sacco di lavoro da fare e quindi niente a tutti quanti auguro una buonissima sera da tanto che non chiudo il video così un viaggio e una buona serata valter americano è tornato ancora una volta ci vediamo alla prossima ciao boom iscriviti al canale